Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi arrivi, infatti, di libri e fumetti, soprattutto fumetti, devo dire. Mi sono arrivati nell'ultima settimana, quindi non ho fatto in tempo ancora a leggere tutto, però di alcuni titoli vi posso già dare un'opinione. Innanzitutto, grandissima sorpresa da parte di Panini Planet Manga, il cofanetto di Pet, che si compone da 5 volumi. Il prezzo del cofanetto è di 49,50€ e il singolo volume ha un prezzo di 9,90€, faccio vedere il primo. Io ho già letto i primi due di questo seinen e devo dire che sono molto, molto curiosa di andare avanti. La storia vede per protagoniste delle persone in grado di insinuarsi nella mente di altre persone e riescono non solo a vedere i loro ricordi, ma anche a manipolarli, in alcuni casi cambiarli. Queste persone vengono per lo più, diciamo, sfruttate da un'organizzazione criminale proprio per coprire i loro crimini. Una cosa che mi ha colpito da subito del manga è proprio questo viaggio nella mente umana, molto, molto complesso, però è anche accattivante. Le persone che manipolano e cambiano i ricordi di altre persone, in molti casi possono arrivare proprio a distruggerle, si chiedono quanto sia giusto fare una cosa di questo tipo. E anche nel momento in cui arrivano a distruggere una persona, non se ne escono, diciamo, illesi, ma ci sono delle ripercussioni anche su queste persone. È una storia forte, cruda, si parla appunto di criminalità, di mente umana, ci sono un po' di misteri, questa organizzazione. Insomma, sono molto curiosa di andare avanti. È una storia che è accattivante proprio per la sua complessità, ci sono un po' di giochi di strategie di potere. Mi è arrivata poi la biblioteca di mezzanotte di Matt Haig da parte di Edizioni E.O. Il prezzo di copertine è di 18 euro e come sapete ho già letto questo libro e mi è piaciuto tanto. Nora, la protagonista, tenta di uccidersi e mentre si trova fra la vita e la morte capita in questa strana biblioteca in cui sono raccolti tutti i libri con le sue possibili vite. Ha l'occasione quindi di scoprire come sarebbe andata la sua vita, dove si troverebbe in questo momento se ad esempio fosse diventata una notatrice professionista, se non avesse lasciato il fidanzato ad altare e così via. È una storia interessante non tanto per questo aspetto un po' fantastico, ma per il modo in cui l'autore parla di malattie mentali, in particolare di ansia, di depressione e attacchi di panico. E nelle sue parole, anche quando parla del tentativo di uccidersi da parte della protagonista, ho rivisto molto l'autore in un altro suo libro, ovvero Ragioni per continuare a vivere. Non è da tutti avere comunque questa delicatezza nell'affrontare certi temi e il saperti far sentire compreso e non solo. È una storia che si divora, io l'ho finito veramente in due giorni, non riuscivo a metterlo giù. Quindi è un libro che vi consiglio se appunto queste premesse vi incuriosiscono. Torniamo a parlare di manga con due arrivi da parte di Baopublishing per la collana Aiken. Il primo è Okinu, dello stesso autore di Bonno Kuni, ovvero Sukerakko. Non sono convintissima della pronuncia, quindi perdonatemi. Il prezzo di copertina di questo volume è di 7,90€ e si tratta di una raccolta di storie, quindi un volume unico che raccoglie diverse storie incentrate principalmente sulle relazioni. Si parla di amicizia, di amore, di famiglia, rapporto diciamo con colleghi. Ci sono poi tre storie dedicate al cane gigante Okinu che vedete in copertina, un cane tenerissimo ma anche un po' malinconico perché viene considerato soltanto come punto di riferimento. È grande quanto una casa e la gente del quartiere si orienta in base alla sua presenza. Sembra che ormai nessuno faccia caso alla sua presenza per altri motivi. Ecco, e come capita in tutte le raccolte ci sono quelle storie che magari ti colpiscono di più, altre un po' meno. Così è capitato anche per me. L'ho sicuramente preferito a Bonno Kuni, forse per la diversità e per l'affrontare comunque diverse tematiche, anche magari con un tocco di magia, però comunque si rimane molto di più nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Una delle storie che mi ha colpito più di tutte, vedeva il protagonista un ragazzo follemente innamorato della mensa della sua scuola, tanto da voler diventare poi lui stesso cuoco in una mensa scolastica e vuole diventare la signora della mensa. Lettura quindi molto molto carina, soprattutto se state cercando qualcosa appunto a volume unico. Poi sempre di Bao mi è arrivato il secondo volume della taverna di Mezzanotte di Yaro Abe. Questo è un prezzo invece di copertina di 17 euro, come vi dicevo il secondo volume di una serie in realtà abbastanza lunga, che vede per il protagonista questa taverna appunto che apre da mezzanotte alle sete del mattino. Attorno a questo bancone, un posto veramente molto molto piccolo, passano diverse persone che popolano un po' la notte di questa grandissima città. E quindi il cuoco viene a contatto con tantissime storie diverse, anche in questo caso si parla tanto di quotidianità, di lavoro, responsabilità, famiglia, amicizia, amori, davvero tantissimi temi diversi. È una diciamo raccolta di storie e molto spesso queste storie si intrecciano con il cibo, soprattutto con i piatti della tradizione. La trovo una cosa veramente magica. Se non avete mai letto questo manga, io innanzitutto ve lo consiglio soprattutto se vi piace il cibo giapponese, ma poi vi consiglio anche la serie Netflix che è tratta appunto da questa serie di fumetti. Ho poi tre titoli Feltrinelli Comics da mostrarvi. Il primo, lo attendevo tantissimo, è Anestesia di fumetti brutti. Prezzo di copertina 16 euro, l'autrice torna a parlare della sua esperienza personale. In questo fumetto in particolare parla delle difficoltà della sua transizione a livello medico e legale. È una storia che grida libertà, che ha proprio l'urgenza di comunicare questo senso di libertà e di voler essere accettati. È una storia molto dura, se avete già letto qualcosa di fumetti brutti, scommetto che anche questo nuovo titolo vi piacerà. Io forse mi aspettavo una spinta maggiore. Ad esempio, P, la mia adolescenza trans, mi era piaciuto di più rispetto a questo volume. Questo è un titolo che rimane, diciamo, un po' più specifico. Una cosa poi che apprezzo molto di questa autrice è l'assoluta libertà di parlare di certi temi, soprattutto della sfera sessuale, senza limitazioni e con una chiarezza veramente disarmante, direi. Altro titolo che mi è arrivato è Don Zauker, prezzo di copertina 16 euro, di Emiliano Pagani e Daniele Caluri. L'origine del male, questo se non sbaglio, è il terzo volume che esce per Feltrinelli Comics, su questo personaggio comunque molto conosciuto. Io non ho sempre sentito parlare, anche se devo essere sincera, non sono mai andata ad approfondire. Altro titolo è La buona novella, di Paolo Castaldi, con i testi originali di Fabrizio Di Andrè. Questo ha un prezzo di copertina di 16 euro ed è appunto, diciamo, tra virgolette, la trasposizione di questi testi in graphic novel. Si parla di umanità, in senso, diciamo, generale, le contraddizioni dell'uomo in maniera poetica. Devo ancora leggere questo titolo, però sono decisamente curiosa. Direi di passare ora a J-pop. Mi era arrivato, in realtà, più di una settimana fa, ma l'ho comunque incluso perché non ho mai avuto occasione di parlarvene, Blue Period di Tsubasa Yamaguchi. È il primo volume di una nuova serie, il prezzo di copertina è di 6,50 euro. Io, in realtà, non l'ho ancora letto. Lo avevo iniziato, ma non mi stava prendendo per niente, quindi lo avevo momentaneamente accantonato, ma sicuramente lo riprenderò perché mi sembra giusto, comunque, almeno terminare questo primo volume. Di che cosa parla, in linea generale, la storia? Di un liceale che, nonostante, diciamo, tutte le difficoltà, è un ottimo studente, riesce, diciamo, sempre a cavarsela. E un giorno gli si risveglia questa passione per il disegno. Infatti, Blue Period fa comunque riferimento a Picasso, al periodo blu di Picasso. E quindi il nuovo obiettivo che si pone a questo ragazzo è di entrare all'università per fare arte. Come vi dicevo, io non l'ho ancora terminato, avevo letto soltanto l'inizio, ma non mi stava appassionando proprio per, forse, l'esuberanza e il carattere proprio del protagonista, con cui non ho sentito particolare connessione, però lo riprenderò poi in futuro. Un titolo, invece, che ho già letto è Hanako-kun, i sette misteri dell'Accademia Kamone di Aida Hiro. Prezzo di copertina 5,90€, anche questo è il primo volume di una serie. È già uscita la recensione del primo volume, le mie prime impressioni sul blog, quindi le trovate nelle schede qua sotto in descrizione. In sostanza, come in ogni buona scuola, anche questa accademia ha dei pettegolezzi, delle voci di corridoio, dei misteri. E una delle matricole è particolarmente appassionata, diciamo, di occulto e decide di scoprire se è vera o meno una diceria su un certo fantasma o spirito che popola il bagno delle ragazze e che, si dice, possa avverare i desideri. Lei ha le prese con una cotta, diciamo, disperata e quindi tenta il tutto per tutto, ma quello che non sa è che una volta entrata a contatto con questo mondo degli spiriti e dei demoni sarà poi difficile uscirne. È una storia molto carina, molto simpatica, i disegni sono molto molto curati, sono rimasta molto sorpresa da questo aspetto, io poi ho sempre una sorta di fascinazione per tutto ciò che riguarda miti, leggende, demoni, spiriti, soprattutto se si rifanno magari anche a delle tradizioni o alla storia, cultura. Mi è arrivato poi anche Unico di Osamu Tezuka, volume unico al prezzo di 20€, tutto a colori. Questo è un altro titolo che devo ancora leggere, ma sarà il prossimo in lista perché sono veramente molto molto curiosa. La storia parla di questo unicorno, come avete potuto vedere, in copertina, che è in grado di donare la felicità a tutte le persone con cui viene in contatto. D'edizioni BD mi è arrivato invece Sangue nel mare di Elisa Meneghel, prezzo di copertina 12€. È una storia ambientata in un mondo sommerso dall'acqua. Tutta quella superficie, una volta abitata, è sommersa invece adesso dalle acque. Teb cerca di provvedere a se stesse e al fratello, ma un giorno il fratello scompare. E cercando di scoprirne qualcosa in più, Teb scopre che la sparizione del fratello in realtà è una delle tante sparizioni che hanno colpito questa zona. Sono molto curiosa di leggere questo fumetto che ha vinto il Lucca Project Contest l'anno scorso. E poi questo richiamo alla vita marina mi affascina, sapete che è un po' il pallino per il mare, l'acqua, le creature che vi abitano, quindi davvero molto curiosa di saperne qualcosa in più. Tra l'altro ho dato una velocissima sfogliata al volume e i disegni suono veramente molto molto belli. Mi ricordano un po' i fumetti, diciamo, americani, d'avventura, supereroi, eccetera. Passiamo ai manga che mi sono arrivati da Star Comics. Innanzitutto mi è arrivato il loro primissimo boys love. Io sono contenta a prescindere che finalmente anche altre case editrici inizino a pubblicare titoli, diciamo, diversi, un po' più di nicchia. Non i soliti shoujo, shonen, tra l'altro negli annunci del Lucca Comics ho visto che sempre Star Comics l'anno prossimo porterà un altro Yaoi e anche uno Yuri, quindi sono molto contenta. Il titolo che mi è arrivato per me è un po' uno scioglilingua. Hito Regime My Hero, il primo numero di Memeko Ari, prezzo di copertina 6,50€. Si tratta di un boys love che vede per protagonisti un professore e uno studente. Diciamo che ho sentimenti un po' contrastanti per questo manga, perché non lo trovo particolarmente originale, l'inizio è per me molto confusionario, alcuni personaggi tendono un po' ad assomigliarsi tutti, però è una storia comunque di intrattenimento, molto piacevole e spiritosa da leggere. Come vi dicevo, la storia vede per protagonista un alunno che è un po' il cagnolino, fa fatica ad imporsi e quindi finisce sempre per accontentare i capricci delle altre persone, è un po' il fattorino, è il servetto di turno. Ecco, finché non si imbatte in questa figura che lui considera un po' come un idolo e inizia di nuovo a far da servetto a questo ragazzo che poi è un professore. Diciamo che non è fra i miei boys love preferiti, però è comunque un volume secondo me molto di intrattenimento. Mi è poi arrivato Mao di Rumiko Takashi, il primo volume, prezzo di copertina 4,50€. Qui grande, mega confessione, non uccidetemi, ma io non sono una grandissima fan di Rumiko Takashi. È vero che ho letto non tantissimo delle sue opere, quello che ho letto mi è sempre piaciucchiato, ma non troppo. Ecco, anche gli anime poi tratti dalle sue opere non mi hanno mai fatto impazzire. Quindi, dovevo togliermi questo peso. Detto questo, Mao non mi è dispiaciuto per niente. La storia vede per protagonista una ragazza che da bambina, in seguito ad un incidente, ha perso i suoi genitori. Lei è miracolosamente sopravvissuta a questo incidente e un giorno, mentre è in giro con delle sue amiche, finisce catapultata in un'epoca diversa dalla sua. E lì inizia a capire che probabilmente l'incidente che l'ha vista per protagonista ha avuto qualcosa di, diciamo, paranormale. Incontrerà infatti dei personaggi che, come lei, sono connesse ad un mondo, diciamo, di spiriti e di demoni. È una storia molto carina per questo aspetto, appunto, un po' paranormale, fantastico e soprattutto molto misterioso. Io non riuscivo a metterlo giù perché ero molto curiosa di sapere come sarebbe andato avanti. Insomma, devo dire che nel complesso non mi è dispiaciuto per niente. Altro titolo, sempre di Rumiko Tagashi, è A cena con la strega, che in questo caso è invece un volume unico. Il prezzo di copertina è di 7 euro ed è una raccolta di storie brevi. Molto carino e di intrattenimento anche questo volume, anche se, vi ripeto, io non sono una grandissima fan di questa autrice e delle, diciamo, commedie che propone. Ci sono degli sketch sicuramente molto carini, buffi, simpatici, ma in linea generale è quel tipo di umorismo che a me fa ridere fino a un certo punto. Ci sono delle situazioni, magari, equivoche, che appunto, dalle cose non dette, fraintese, poi succede un po' il finimondo e quelle situazioni che sono abbastanza tipiche del manga. Per questo, secondo me, è un volume decisamente carino, soprattutto se vi piace l'autrice, soprattutto se state cercando, diciamo, qualcosa di un po' più leggero e simpatico, che sia, appunto, volume unico perché è una raccolta di storie. Mi sono poi arrivati tre manga che ancora non ho letto, che fanno parte della stessa serie, ovvero Kaguya-sama Love is War di Haka Akazaka. Il prezzo di copertina è di 5,90€ e, come vi dicevo, mi sono arrivati i primi tre volumi di questa serie. Da quanto mi sembra di capire, si tratta di un seinen, diciamo, sentimentale, che vede per protagonisti due studenti molto affiatati, infatti tutti danno per scontato che hanno una relazione, in realtà i due negano sempre, ma passando molto tempo assieme, finiscono poi per innamorarsi. Ma c'è un problema che li separa dal dichiararsi, perché c'è questa convinzione che in una coppia c'è comunque la parte più forte e quella più debole, e chi si dichiara probabilmente andrà a rappresentare la parte debole, quindi, forse per orgoglio, nessuno dei due vuole dichiararsi, quindi inizia una sorta di guerra d'amore in questo senso. Le premesse sono veramente molto carine, sono poi incuriosita dalle copertine, hanno un tratto veramente molto molto carino, quindi anche questa sarà fra le mie prossime letture, e poi vi farò sapere quando avrò letto tutti e tre, così da avere un, diciamo, un'opinione un po' più solida e non basata soltanto sul primo. Sempre per quanto riguarda Star Comics, sono arrivati questi due fumetti. Il primo di Davide Tusello e Blue nella terra dei sogni e la foresta invadente, questo è il primo volume. Prezzo di copertina in questo volume è 12,90€. La protagonista di questa storia è Blue, una ragazzina che vuole molto bene a sua madre, che un giorno si trova catapultata in un mondo fatto di tenebre, in cui vengono racchiusi i sogni, e anche le persone, diciamo, proprietarie di questi sogni, e la ragazza dovrà fare di tutto per salvare i suoi cari. Si tratta quindi di una storia magica, avventurosa, comunque abbastanza fantastica, e nulla, io sono molto curiosa perché lo devo ancora leggere, così come devo leggere ancora, Sorceline, che spero si pronunci in questo modo, di Silvia Douillet e Paola Antista. Un giorno sarò fantasticologa. Molto carina la copertina e il titolo mi ricordano un po' Coraline. Il prezzo di copertina è di 11,90€, e dalla trama questa storia mi ricorda un po' il mondo di Harry Potter. Siamo sempre nella zona fantastico, magia, eccetera, e la protagonista è stata accettata in una scuola per studiare animali fantastici e leggendari. E quindi si segue un po' il suo percorso in questa nuova scuola, soprattutto il suo rapporto con gli altri studenti, alcuni dei quali diverranno degli amici, altri, diciamo, dei rivali. Sono molto curiosa, la storia appunto, come vi dicevo, sembra fantastica, magica, i disegni sono molto molto carini. Si parla poi di animali, diciamo, fantastici, meglio di così. Ultimo, non certo per importanza, ma perché mi è arrivato proprio oggi, quindi è l'ultimo degli arrivi. Lui, titolo che attendevo tantissimo. Gideon, la nonna, questa non è la sua veste definitiva, ma si tratta di una bozza, diciamo. L'autrice è Tamsin Muir, è neozelandese e il prezzo di copertina che avrà questo libro nella sua edizione, diciamo, definitiva, ve lo dico subito, è di 22 euro. Per me è abbastanza difficile spiegarvi di che cosa parla questo libro dove fantasy e sci-fi si incontrano, perché infatti il mondo descritto dall'autrice è un mondo che si basa sulla tecnologia e la necromanzia. Si parla di un impero che si basa su nove case differenti, ognuna delle quali ha un suo pianeta, e diciamo votata a un certo specifico aspetto della necromanzia. Dovrebbe trattarsi di un fantasy dalle atmosfere un po' cupe, la protagonista è poi un'anti-eroina. Mi aspetto qualcosa decisamente fuori dagli schemi, da quello che ho sentito dire dovrebbe essere qualcosa che va oltre, diciamo, ogni genere. E non è un volume unico, ma dovrebbe essere il primo, almeno qua c'è scritto libro 1 di questa serie. Bene, questo è tutto. In una settimana ho accumulato tante cose da farvi vedere, sono contenta di essere riuscita, in alcuni casi, a darvi già un parere, insomma, abbastanza diretto e conciso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale titolo vi attira di più, sia fra quelli che ho già letto, che quelli che devo ancora leggere. Se avete letto qualcosa di quello che vi ho mostrato, fatemi sapere che cosa ne avete pensato voi. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!